Anticipazione Uomini e Donne del 9 maggio 2023, Santinelli ha fatto la sua scelta. E' appena terminata la registrazione odierna di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ecco tutte le anticipazioni sulla prossima puntata, durante la quale assisteremo alla scelta dell'elettronista Nicole Santinelli. La nostra talpa in studio ci ha rivelato cos'è successo nella registrazione di Uomini e Donne appena conclusa. Questa è stata l'ultima registrazione di Uomini e Donne della stagione. Durante i saluti finali, Tina ha chiesto alla conduttrice se lei e Gianni fossero confermati per la prossima edizione e la De Filippi ha confermato. Tina ha salutato tutto il parter tranne Elio.